Siamo saliti a 5 milioni, 10, 30, fino a 40, 50, 60, e via, fino a 100 milioni attuali, diciamo... Sembra semplice, no? 10, 40... No, no, ho preso una panda 4x4, quando vado a St. Moritz non mi caga nessuno, passo la frontiera, sono tranquillo. L'adrenalina che mi ha dato la vendita poi, insomma, è stata difficile da pareggiare. L'azienda allora, quando sono entrato, faceva 500 mila euro. Quella ci fai senza la pistola? Ma non glielo presento la prima volta al Beard's Play. Certo, chiaramente non ce l'avevi. Non ce l'avevo. Uno fa un miliardo e 200 milioni di EBITDA. Un miliardo e 200 milioni di EBITDA? Sì, sì, sì. Senti, mi hai parlato di 500 dipendenti. Sì. Dove hai studiato leadership? Penso, Giacomo, che l'imprenditore deve sapere il 20% di tutte le aree aziendali. Il problema è che la tua azienda fa 2 milioni e potrebbe fare 20 milioni. O 200. O 200 milioni. Beh, sicuramente la crisi del 2008 è stato un momento molto difficile. Io faccio sempre la prova del vino, che magari hanno fatto una vita per fare un'aziendina che tutta la loro vita, perché fuori da quel cancello sono delle merde totali, mi sveglio 5 e mezza, 5 e mezza, 5 e quaranta. Cioè, quando mi vedono quell'autista, dico l'autista, ma non è un stato simbolo. Quali beni di lusso hai? Però portati i biglietti, una vista. Bene, benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'1% Podcast. Oggi abbiamo un super, super, e direi super, maiuscolo, grassetto, sottolineato ospite, che è Mirko Gasparotto. Ciao Mirko. Ciao Giacomo. E come al solito, chi di voi non conosce Mirko, non so dove si è nascosto, in qualità ne si è nascosto negli ultimi due o tre anni, anche cinque anni credo, che fai online. Sette. Sette anni che già ti promuovi online. Cinque che mi promuovo online, perché i due sono stati sotto traccia, sì. Ok, quindi cinque anni. Però Mirko, facciamo una cosa, dacci tu un'indicazione di cosa fai, no? Dacci un'autopresentazione, così almeno non sbaglio nulla. Allora, io ho due vite, una vita professionali e una vita storica, che è il mio gruppo, è un gruppo che si occupa di distribuzione industriale e un'anima invece nella formazione iniziata sette anni fa con la creazione di una community e di un percorso per imprenditori. Ma la prima vita professionale è quella che mi ha permesso di creare tutto un bagaglio tecnico di esperienza. Perché secondo me noi cresciamo con circuiti esperienziali multipli, cioè quelli nostri e quelli degli altri. In questo caso diciamo che questi 40 anni, primo di novembre del 2023, sono 40 anni. Possiamo dire quanti anni hai? 60. 60. Di cui 40 passati professionalmente. Ho iniziato la mia attività dal marciapiede, cioè dalla porta del magazzino, quindi sono entrato ventenne in questa piccolissima attività veneta che produceva saldatrici, subito con un'anima commerciale, devo dire, ho cominciato a vendere un po' le prime cose, le prime saldatrici dopo un anno che facevo il magazziniere perché volevo arrotondare, voglio dire, e sono diventato venditore, poi da venditore ho cominciato a fare un piccolo gruppetto di commerciali dentro l'azienda, l'azienda allora quando sono entrato faceva 500 mila euro, quindi un miliardo di vecchie lire per capirci e ho cominciato a fare il, tra virgolette, il direttore commerciale, il responsabile commerciale. Ci posso dire una cosa, già non è poco che ti ha dato la possibilità di vendere dentro l'azienda il datore di lavoro comunque? Sì, aveva visto il mio spirito commerciale, noi vendevamo praticamente, distribuivamo queste bombole di gas tecnici, industriali e oltre alla distribuzione delle bombole vendevamo anche di ricambi, quindi facciamo la tentata vendita, non te la ricordi tu, la tentata vendita, ti spiego cosa era, c'era praticamente noi caricavamo al mattino una serie di ricambi sul furgone e c'era questo blocco di commissioni, quando scaricavamo le bombole e dicevamo ma hai bisogno anche di ricambi e allora scrivevamo 5 di questi, 10 di questi, 20 di questi, 30 di questi e io arrivavo sempre alla sera pulito pulito, nel senso che caricavo 1000 euro di ricambi, 1000 euro li vendevo tutti. Vista la tentata vendita mi piaceva molto e a un certo punto l'imprenditore mi mise in mano la copia commissione e mi disse vai a vendere la prima saldatrice, non so neanche come funzionava la saldatrice, però ti do un tecnico e dice non preoccuparti, tu devi solo sapere che costa 2 milioni e 300 mila lire e io ho visto la dimostrazione, ho visto tutto, ho visto il modello General Welding 2,30 e ho cominciato a dire al cliente devi firmare qua perché questo gioiello qua è la firma qua, poi te la lascio qua direttamente dalla visione e lì ho venduto la prima. Quindi decidevi tu per loro. Sì, è bello, diciamo che era una vendita forzata da questo punto di vista qua, poi ho creato la mia squadra di vendita e nel 1988, quindi dopo 5 anni, dopo 5 anni è successo un fatto che capita un po' a tutti nella vita, un momento di grande difficoltà, in luglio viene a mancare il fondatore della società. Dopo 10 anni, 5 anni, quanto faceva l'azienda? L'azienda faceva un milione, un miliardo e mezzo, un miliardo e mezzo, viene a mancare il fondatore, il fondatore improvvisamente ha 56 anni, l'azienda poteva essere venduta e lì ho avuto l'ispirazione di una tesi di laurea che ho letto, Management Buyout, cioè come comperarsi l'attività per cui lavori con gli utili dell'azienda. Era avveniristico perché nell'88 non c'era questa, insomma nel Veneto, a Vicenza non c'era questa possibilità e ho cominciato, prima ho chiesto alla signora, alla vedova, ho detto ma ce la vende a noi, io e altri colleghi che avevamo cominciato a fare gruppo, eccetera, ma la realtà è che noi non avevamo soldi, 25 io, 24, 23, 22 anni, molto. E allora ho cominciato a fare un giro delle banche e dopo 20 banche, veramente 20, alla ventesima un po' sconfortato perché tutti mi dicevano le garanzie, i genitori, non possiamo darvi soldi, l'azienda è piccola, tutta una serie di cose che non, sicuramente ho visto che ho avuto anche un pelo di fortuna perché c'era un capo area della Cassa degli Sparmi di Venezia, che è arrivato lì e ha guardato con attenzione quello che io gli raccontavo. Mi ha chiesto se aveva un business plan e io ho detto sì, ma non glielo presento la prima volta il business plan? Certo, chiaramente non ce l'avevo. Non ce l'avevo, sono diventato un, ecco perché predico l'importanza dei numeri, un cultore dei numeri del business plan e niente, li ho presentato una settimana dopo, nel giro di un mese hanno deliberato, io e altri tre colleghi abbiamo fatto l'MBO e in cinque anni gli utili dell'azienda hanno pagato l'azienda. Poi abbiamo sviluppato l'azienda, abbiamo chiuso la produzione di saldatura, abbiamo preso il marchio più importante distribuito in Italia, il marchio più costoso e più importante e abbiamo cominciato a scavallare nel mondo della saldatura, siamo andati nel mondo della distribuzione industriale e siamo saliti a 5 milioni, 10, 30, fino a 40, 50, 60 e via, fino a 100 milioni attuali diciamo. Sembra semplice, adesso raccontiamo tutto quello che c'è dietro, però mi piace già una cosa interessante, più cose interessanti di quello che hai già detto nella prima nel raccontare la storia, intanto hai detto sono stato fortunato per la banca, ne sentite 20, uno si sarebbe fermato dopo 3-4. Ero sconfortato, ero sconfortato, devo dire che erano le ultime cartucce e c'era questa cassa di risparmio di Venezia che aveva appena aperto lo sportello a Vicenza e aveva bisogno di fare impieghi e io ero lì pronto, ho detto se fate gli impieghi ho bisogno di impieghi in quel caso di soldi. Fantastica, però anche da qui a un milione e mezzo prima che il fondatore venisse a mancare, comunque hai messo insieme delle competenze importanti, non so dove l'hai preso? Allora c'è un momento storico che ha fatto il cambio della mia vita, quando io ho fatto l'NBO a 27 anni sono stato nominato amministratore delegato, da fattorino amministratore delegato ci ho impiegato 7 anni, però quando sono stato nominato amministratore delegato mi rendevo conto che non avevo le competenze, non avevo in mano i numeri, il bilancio eccetera eccetera e ho fatto 3 anni, quasi 90 corsi, di sera. Dove? In Italia o America? Guarda, confcommercio, artigianato, industriale, dove c'erano? Io dove parlavo di bilancio, di numeri, io mi scrivevo, proprio per default. Mi sono tenuto quei clienti storici che avevo, ho delegato il resto delle mansioni commerciali e devo dire che quelli, Giacomo, sono stati i 3 anni più fruttuosi della mia vita, perché se un imprenditore non ha conoscenze, competenze e non studia, non può gestire l'azienda e questi sono i 3 anni che poi mi sono portato via sempre di vantaggio nella vita perché ho cominciato a riclassificare i bilanci, ho cominciato a capire la parte finanziaria, insomma tanta roba. Sì. E invece dal punto di vista del team di vendita, come hai trovato, cioè come hai fatto il team di vendita? Hai studiato per creare un team di vendita oppure hai avuto abbastanza naturale? Sono partito da Mario Silvano. Non lo conosco. Mettiamo l'icona qui sotto per chi non la conosce. No, no, è morto, è il padre delle vendite, da questo punto mi piacevano le vendite, mi piacciono le vendite, quindi studiavo le tecniche di vendita, ho studiato la PNL, ho studiato un sacco di... perché mi piaceva condurre la vendita, mi piaceva gestire la vendita, mi piaceva arrivare al finale che a quell'epoca era la firma con il strappare quel foglio che c'era sopra e dire la saldatrice. Ti senti un supereroe. Sì, direi che... e devo dire una cosa, l'adrenalina che mi ha dato la vendita poi insomma è stata difficile da pareggiare. Quando ho cominciato a vedere l'azienda che andava e tutto quanto il resto, certo, però l'adrenalina della vendita è un qualcosa di molto particolare. C'è il nostro ragazzo, il nostro commerciale che dice che è meglio del sesso. Sì, veramente, adesso non a quei livelli. Non proprio a quei livelli. Ok, allora, quindi c'è tanto da dire, però una cosa, io dico sempre, per far scalare un'attività, che puoi scalare il nostro in piccolo, rispetto a quelle che sono le cifre che tu hai raggiunto e hai in questo momento, quello è il vero scalare, non è fare da 0-100 mila scala la tua attività, da 0-100 milioni direi che l'abbiamo scalata, c'è sempre che fare di meglio, però voglio dire. Comunque, io parlo sempre del framework delle 5P. La prima, sicuramente, su cui vorrei parlare anche di questo aspetto è pensare in grande, perché non fai le cose che hai fatto tu se non pensi in grande, credo. Sì, allora, io una volta mi definivano, cioè, quello che sognava, no? Perché dicevo, quando facevamo 3 milioni, dovevamo farne... 30! Io facevo il piano industriale, diciamo che a quell'epoca era più che altro vendite, voglio dire, non era strutturato come adesso, però dicevo 10, 20, 30. e quando ho messo i 50 milioni mi hanno detto veramente sei impazzito. Bisogna sempre sognare, bisogna sempre pensare in grande, bisogna sempre fare il passo più lungo della gamba perché questa gente che non osa non arriverà mai da nessuna parte. Voi potete stare nella vita in due categorie, o quelli che chiacchierano e criticano quelli che fanno o quelli che fanno. Se fate quelli che fanno, sicuramente dovete fare il passo più lungo della gamba, perché l'ho fatto 100 volte e 100 volte mi ha portato a una dimensione, a un paradigma diverso, voglio dire. E poi ci saranno, se fai quello che fai, ci saranno sempre quelli che criticano, che roppano le balle. E se non miri in grande, questo magari ti blocca, no? Ti può bloccare come tante altre cose, ti può gestire le persone, quindi bisogna mirare in grande. La seconda parte è promuovi, 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 dico le 5P, no? La seconda è la P per 3. Se non promuovi i soldi, seguono l'attenzione, chiaramente se tu non promuovi, la terza è profitti. Quindi devi vendere, a un certo punto devi vendere. Mi pare che tu più o meno hai fatto queste tre cose al limite, fino a un milione e mezzo, tre, hai già fatto questo. Poi aggiungi l'altra parte che sono processi e persone, tutto allacciato ai numeri, come hai detto. E secondo te, da quant'è, cioè io ho individuato con i miei clienti dei breakpoint, che li chiamo, cioè da 0 a 100 è il primo breakpoint, che se tu fai le stesse cose a 100 non passa a 500, che è il secondo breakpoint. Se a 500 non cambi il modo di pensare, rimani lì e poi arriva un milione, poi da un milione a tre milioni. Questo è quello che ho visto per chi parte, per le start-up, no? E mi pare di capire che un po' anche tu l'hai fatto, nel senso che fino a un milione e mezzo, quando hai comprato l'azienda, facevi il commerciale. Certo. Poi ti sei messo a ragionare sui numeri per passare al prossimo step. Condizione sine qua non, nel senso che se tu non capisci come girano i numeri, soprattutto ripeto l'appetto finanziario, ci sono tre cose importanti all'azienda, conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è quello che comanda, perché la gente non capisce questo. Io sinceramente tante volte dico alle PMI italiane studiate perché trovo molta ignoranza in materia gestionale e questa ignoranza in materia gestionale poi diventa un problema, perché poi non aggiorni i professionisti, non adegui i processi, non riesci a far sì che la tua azienda si sviluppi. Ci sono delle aziende che fanno due milioni da vent'anni e non si sviluppano, ma perché? Perché non si è sviluppato l'imprenditore con la testa. E sei d'accordo con me sul fatto che l'imprenditore, io dico ci sono tre tappi, tre colli di bottiglia dell'imprenditore, che sono il collo della leadership, il collo delle credenze e poi c'è quello dell'operatività efficienza. Se uno non sviluppa questi tre, non alza questi tappi, questi colli, l'azienda è un riflesso e si ferma lì, giusto? La maggior parte degli imprenditori italiani è prigioniero della propria azienda, la maggior parte, e altrettanto la maggior parte guadagna meno dei loro collaboratori. E questo è un problema grosso, perché non se ne rendono conto, ma soprattutto non fanno quel cambio di paradigma che dovrebbe essere, perché se io porto a casa 30.000 euro lordi all'anno, 40.000 euro lordi all'anno, che è il costo di un dipendente, ma io non faccio l'imprenditore, non faccio l'imprenditore perché il venerdì sera chiudo e sono a posto la sera alle 5.30, 6, ho finito. L'imprenditore invece ha un tutt'uno, voglio dire, la sua vita è veramente mixata fra la parte, quindi bisogna uscire da questi schemi qua, sicuramente. E io penso che la definisco un po' la bolla, bisogna uscire dalla bolla e dire ma io faccio l'azienda per far soldi, non faccio l'azienda per fatturare, perché uno pensa a fatturare, fatturato è l'ultimo dei... C'è un libro bello che lo dice, è un libro mattone così che dice una cosa, due o tre in particolare, ma la prima cosa che dice si chiama The Goal, il libro, l'obiettivo, no? The Goal, si dice l'obiettivo di un'azienda è fare un profitto, se tu non fai un profitto, parla parlo di un'azienda simile alla tua, un'azienda metalmeccanica americana, adesso non ricordo chi l'ha scritto, è la prima cosa che dice l'obiettivo di un'azienda è fare profitti, se tu non fai profitti, chiaramente guadagni quanto un dipendente, conviene fare dipendente. Senti, ti volevo chiedere, quindi oggi dove sei arrivato? Mi raccontavi prima del podcast, però come è strutturata il tuo gruppo aziendale? Sono cinque attività, noi siamo leader in Italia oggi nella saldatura, facciamo quest'anno 2.23 120 milioni, 60 ne facciamo di saldatura e siamo leader assoluti, i secondi in Italia ne faranno 15, 10-15. Leader assoluto in Italia quindi? In Italia, noi distribuiamo il prodotto più importante al mondo che si chiama Fronius, è un'azienda importantissima, dal 1993 distribuiamo, quindi nella saldatura abbiamo 500 dipendenti complessivamente, 200-250 agenti e un'ottantina di tecnici più o meno, insomma, sulle varie... Non si chiede di quali sono i margini lordi, il margine operativo lordo? Noi partiamo dal primo margine di un 30%, e poi scendi, voglio dire, ma un'attività industriale in linea di massima deve andare comunque con EBITDA dall'8 al 10% in tutte le attività dovrebbero essere, se uno non arriva a questi livelli di EBITDA... E voi siete il 30%, comunque rispetto alla media siete il doppio, credo, no? Dipende dai settori, perché ci sono settori che anche lì magari uno ha un primo margine più basso, poi è una struttura dei costi più slim, i tecnici nostri sono una struttura dei costi molto molto importante, insomma, voglio dire, e quindi... Però c'è molta tecnologia, vendiamo molte soluzioni, non vendiamo quasi più la saldatrice, voglio dire. Wow, fantastico. Senti, mi hai parlato di 500 dipendenti, dove hai studiato leadership? La leadership si sviluppa nel campo e l'autorevolezza che uno ha facendo prima le cose, perché se tu hai fatto prima le cose è un po' quello che ci dicevamo prima, se tu prima hai scopato gli uffici, tu sai come si fa a scopare gli uffici, sai dove è la polvere, se invece tu non hai mai fatto questa roba qua, tu non puoi sapere com'è fatta, quindi il concetto di leadership è insegnare con l'esempio, insegnare con la capacità, insegnare con l'esempio, te lo faccio vedere io, io quando sono stato responsabile commerciale e qualcuno non riusciva, insieme andavamo e insieme studiavamo prima le difficoltà che c'erano nella sua chiusura e poi far vedere come è fatta una chiusura reale e in realtà il 90% delle cose è fatta nel blocco della testa perché ha paura di mettere la penna in mano al cliente per firmare o ha paura del prezzo che sta per proporre o ha paura delle situazioni, quindi quando uno produce, io perché vendo percorsi da imprenditori a cifre importanti, ma perché io sono convinto che incido nella vita dell'impresa dell'imprenditore e non ho nessuna remora e dico anche... Quali sono le cifre? Vediamo se coincidono con le nostre. 30-40 mila euro, chi lavora con me direttamente. Ok, anche noi abbiamo da 10 ai 140, la media più o meno sui 30-40. Cioè, quando io ti insegno con la tua attività a sviluppare, a migliorare le bidda, a migliorare l'organizzazione, a cambiare la tua azienda... Ma ne vale 3 milioni, non 30 mila. 3 milioni vale. Quindi non si parla più di investimento, voglio dire, no? La cosa interessante è che tu, sì, se tu mi insegni queste cose qui, chiaramente mi rimangono a vita, dovrei pagarti 30 milioni. Cioè, io come imprenditore, perché se c'è un'impresa che fa 3 milioni e mi insegni, mi dai delle dritti per arrivare a 30 fra 10 anni, cavolo, dovresti pagare almeno 3 milioni, no? Quindi lo stai regalando, chiaramente. Però a parte quello, il punto è, una cosa importante che hai detto, e dico sempre anche ai miei clienti che ci ascoltano, arrivano le persone, imprenditori, e mi dicono, io voglio qualcuno che venda al posto mio, perché il mio prodotto è valido. Voglio qualcuno, io non so vendere, non voglio vendere, voglio un reparto vendite. Voglio qualcuno che mi venda, dammi il tuo reparto, dimmi, vendimelo tu, facciamo 50-50. Cosa direste a questi? Super spot per noi. Allora, se ti sta piacendo questo contenuto, è il momento di fare il prossimo passo. Il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di 3 giorni a Rimini, codice un per cento. La prima volta che lo faccio ti assicuro che ti cambierà la vita. Se sei un dipendente, professionista, imprenditore, qualsiasi posizione tu abbia, cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree. Trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta è il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo. Clicca qui. No, che un po' bisogna saperle le cose, secondo me. Bisogna che l'imprenditore, un po', io penso Giacomo, che l'imprenditore deve sapere il 20% di tutte le aree aziendali. 20% non deve diventare uno specialista delle vendite, ma deve sapere quel 20% che gli permette di parlare con un tecnico, con uno specialista, con una persona molto, diciamo, preparata su questo e gli permette di poter gestire il dialogo, di poter prendere le decisioni. Il problema è che neanche questo 20% tante volte non viene conosciuto dall'imprenditore. E quindi torniamo ancora una volta a dire, devi stare con gli imprenditori, devi imparare da imprenditori, devi imparare da chi ha fatto nella vita. Devi essere una persona che cresce, che fa continuamente upgrade della propria attività. Solo così puoi migliorarti nella vita. Io continuamente, dopo 40 anni, ho continuato a migliorarmi. Insomma, ancora oggi continuo a migliorarmi. E questo è un pensiero comune a tutte le persone che intervistiamo qui, che bene o male qualcosa hanno fatto tutte quante, tutte studiano, tutte quante, continuamente. Quante persone, qual è la percentuale di imprenditori, tu sei uno un po' come me, che siamo nel settore in cui educhiamo le persone a formarsi. Quindi un po' anche noi abbiamo contribuito insieme ad altri a aumentare questa percentuale. Ma diciamo, qual è la percentuale di imprenditori secondo te che hanno un'azienda, magari come la tua, quando sei partito, quando l'hai comprata, quando ci hai raccontato un milione e mezzo di fatturato più o meno, che sono a 2 milioni, 3 milioni fermi da anni e che non si formano? Qual è la percentuale? Beh, molto alta secondo me. Se teniamo conto che le partite IVA in Italia sono 6 milioni e il bacino d'utenza di chi si forma è veramente ristretto, la percentuale è altissima. Perché? Perché nonostante i social, nonostante questo discorso, probabilmente questo stare dentro, l'imprenditore all'interno della sua azienda è un re, è il domino assoluto e dice, ma io mi devo mettere in gioco, ma perché devo andare da Freddy? Ma perché devo andare da Gasparotto? Io sto bene, la mia azienda vende. Il problema è che la tua azienda fa 2 milioni e potrebbe fare 20 milioni. O 200 milioni. O 200 milioni. Quindi questo è, è questa, questo, insomma questo, star bene sul proprio, sul proprio nido è così secondo me. Poi c'è molto provincialismo, quindi io vengo da Vicenza, straordinaria eccetera eccetera, però Milano è Milano, Parigi è Parigi, Londra è Londra. Cioè qua ti scardinano il cervello in due minuti, voglio dire, c'è della gente che ti dice, ma voglio dire, cosa fai, quanto guadagni. Qua è normale dire quanto guadagni, c'è, c'è. Lì chiedi il fatturato. In tutte le province, in generale insomma, no? In tutte le province. Quindi uno bisognerebbe che proprio scardinasse questo concetto e andasse verso altre situazioni dove, un po' come ho fatto io, quando ho deciso di cambiare completamente tutto il giro di frequentazioni, frequento obbligatoriamente persone che hanno fatto più di me. Ma perché? Perché da loro c'ho qualcosa da imparare, voglio dire, no? Da chi ha fatto meno di me posso insegnare, voglio dire, no? Posso travasare, ma è un approvvigionamento anche quello di esperienze. Assolutamente. E senti, chi frequenti? Tu hai dei mentor in questo momento? Sì, no, sì, sì, sì. Tu sono in Italia, in America? No, in Australia. No, 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 in Italia. Sono tutti imprenditori, tutti italiani. Qual è quello che fa di più? Uno, fa un miliardo e duecento milioni di EBITDA. Di EBITDA? Un miliardo e duecento milioni di EBITDA? Sì, 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 sì. Ha 86 anni. E in che settore opera? Il settore dei gas, dei gas tecnici. Ma, sì, è una persona molto straordinaria. Poi un altro che ne fa 780, nel settore del food. Insomma, tutte persone con le quali io dottorò un rispetto e un ringraziamento notevole. Perché ogni volta che dicono una cosa c'è da imparare. Ogni volta che dicono una roba, cioè, solo stare con loro una cena o un pranzo o un qualcosa, si impara, si porta a casa. Questo è molto interessante, no? Vi frequentate come? Nel senso, tu li paghi oppure hai un'amicizia? No, no, è un'amicizia. Però, insomma, nel tempo si devono costruire queste situazioni, no? Ci sono anche situazioni dove si possono frequartare dei mentori di un certo tipo, ma solitamente i grandi imprenditori poco si prestano a questo, devo dire la verità. Poco si prestano a questo e quindi è una situazione difficile questa da... Io penso di essere l'unico imprenditore, oltre i 100 milioni, in Italia che mette a disposizione la propria esperienza. Non sono a conoscenza di altri che abbiano fatto i soldi nella parte, diciamo, industriale, nella parte economica e industriale. E questo è un po' un problema. È un po' un problema perché sono, diciamo, un termine brutto che non c'entra niente, però, lobby, no? Nel senso che loro giustamente dicono, io voglio stare, come hai detto tu, a contatto con certe persone. Chi me lo fa fare di andare a insegnare, a mettere a disposizione? Quello che stai facendo tu con Osa, giusto? Osa è un bel esempio di dire, ok, ho fatto sta roba qui, adesso la metto a disposizione degli altri perché voglio che anche altri riescano là. Senti, ti chiedo, che numeri fa Osa a grande linee? Beh, noi facciamo, allora, in tutte le aziende di formazione facciamo 8 milioni. Quindi 8-10, quest'anno forse andiamo verso i 10 milioni. Però ci sono due percorsi. Il percorso della community, Osa, dove abbiamo 17 sedi in Italia, con un team veramente molto... E il percorso invece imprenditore vero, che è un percorso dove io faccio più cose personali. I due percorsi insieme, ho creato due percorsi insieme che si completano tra di loro. Perché chi fa anche del lavoro con me, ha bisogno comunque di un'informazione continua. Osa ha un'informazione continua, costante, ed è una bella community dove insomma le persone si contaminano positivamente. Ti dicevo prima del podcast, no, che sono stato una volta, non ti ricordavi perché sono stati 5 minuti velocemente, e mi avevi cazziato, non so se ti ricordi, tu non ti ricordi? No, cazziato, però mi hai detto, perché sono arrivato, ti ho dato la mano, mi dà il biglietto da visita? Ah, perché non hai il biglietto da visita? Sì, sì. Quella ci fai senza la pistola? Sì, è una cosa del genere. Ho detto, guarda tu, mamma mia. Io non uso biglietti da visita, nemmeno oggi, magari sicuramente sbaglio, perché sono molto digital, mi dà fastidio la carta, mi dà fastidio, e mi ricordo che mi avevi cazziato da quel punto di vista. Senti, una cosa, era proprio un evento Osa quello lì, e una cosa che ti vuoi chiedere, qual è stato il peggior momento negli ultimi 40 anni, da quando è partita questa avventura? Beh, sicuramente la crisi del 2008 è stato un momento molto difficile, è sparito il 50% del mercato saldatura e 15 banche nel nord-est sono sparite per fusioni, per problematiche, prima fra tutte le popole di Vicenza. quindi questo è stato un momento, se lì non hai le redini del gioco in mano ti perdi veramente, se lì non hai le possibilità veramente, ecco, in quei momenti avere l'azienda con i numeri a posto, con tutto quanto a posto, con le spalle coperte, con le spalle coperte è fondamentale, fondamentale. Gli imprenditori passano troppo poco tempo sui numeri, troppo poco tempo Giacomo, troppo poco tempo a concentrarsi sui numeri, io gli dico sempre, c'è solo una parola che comanda, ed è una parola molto semplice, free cash flow, non è neanche il profitto, perché il profitto poi può nascondersi in magazzino, può nascondersi nel credito clienti, free cash flow è esattamente quello che viene fuori di liquido dalla tua attività, e questo è fondamentale, perché un'azienda che non abbia free cash flow, o non capitalizzi, perché può anche non avere free cash flow, ma aumenta di valore patrimoniale, è un'azienda che non produce ricchezza. E' fuffa. Eh purtroppo. Nel senso, questa è una cosa che batto sempre anch'io, su questi numeri, io tutte le mattine, anche stamattina guardo i numeri, ogni giorno, tre volte al giorno guardi i miei numeri, e dico sempre, i numeri sono un po' come una donna, se tu non li guardi, questa guarda altrove, giustamente, ma vanno da qualcun altro, vanno. E quali sono secondo te le tre metriche principali da vedere, ogni giorno? Beh guarda, beh, l'incoming ordini, questa è la cosa principale sostanzialmente che io, i conti correnti, i saldi dei conti correnti sono un'altra cosa. La prima cosa che guardo ogni giorno. I saldi dei conti correnti è una cosa, e poi il controllo di gestione, che deve darti dei KPI, che possono essere anche inframensivi, che possono essere importanti. Però, i tre strumenti che io penso siano indispensabili, non da guardare tutti i giorni, ma da guardare sicuramente, sono il controllo di gestione, il piano industriale, il piano strategico. Sono queste tre attività che tutti dovrebbero avere. Un piano industriale a cinque anni, con montato su anche la parte strategica di Assumption, deve essere, deve entrare nella testa di tutti. Uno dice, ma no, fatturo cinquecentomila euro, non mi serve. Sì, ti serve, ti serve perché è un foglio Excel semplice, dove tu metti dentro... Cinquecentomila a settimana, o no? Cinquecentomila euro a settimana, o all'anno, cosa stai intendo? Senti, perché, classica domanda che mi fa anche a me, che anch'io, noi l'anno scorso abbiamo chiuso con sei milioni di contratti chiusi, non proprio tutto fatturato, ma più o meno siamo lì. E tutti mi chiedono, Giacomo, ma perché non ti fermi? Rilassati un pochino. E io di là c'è scritto, non so se l'hai visto, mi rilasso sulla cassa da morto, no? Mi rilasso. Secondo te perché uno dovrebbe spingere... Tu hai parlato prima di mirare in grande, cinquanta, ti dicevano sogni, no? Adesso sei a centodieci e ancora stai mirando sicuramente un miliardo di abità, no? Come quello che hai nominato poco fa. Perché uno dovrebbe fare di più? Ma lì dipende dall'automotivazione che una persona e da quello che ha dentro di sé e che si è costruito nel tempo, no? Nel work balance life di una persona dovrebbero esserci una serie di ingredienti che sono le mete professionali e le mete private e poi alla fine dovrebbero ricongiungersi tutti e due con un piano di vita che io insegno e che io, diciamo, propino. Ma se tu non hai questa benzina, tu non puoi avere stimoli perché a un certo punto l'unico stimolo vuol dire o guadagnare di più o fatturare di più, ma non è tutto lì nella vita. Se tu hai tutto questo piano di vita insieme, questa progettualità, una persona non progetta la sua vita. Le dico io, ma quali sono i tuoi obiettivi personali? Non mi hai pensato. Ma qual è? Allora tu la vita o la vivi e vai random o la conduci. Per condurla devi avere questa pianificazione. E uno dice, ma Mirko, ma tu sei... Mi trasformi in un robot? No, no, no. Dico, ciccio, io ti insegno a fare il 70%. No, nel senso che... Mi piace, mi piace, è il mio stile. Ti insegno a fare quello che devi fare il 70% e il 30% fai quello che vuoi. Però una vita condotta guidandola è completamente diversa da una vita vissuta. Quando vado ad allenarmi in palestra, adesso parliamo anche di questo, parliamo un po' del life balance, no? Quando vado ad allenarmi, molte volte pubblico una cosa che c'è appesa nel muro, c'è scritto discipline equals freedom, no? Disciplina equivale libertà. Io dico sempre, non voglio libertà, io voglio possibilità, nemmeno libertà. Quindi se lavoro da lunedì a domenica, da lunedì al sabato mattina, poi vado fuori, cioè lo faccio per avere possibilità, no? Certo. E questo è interessante perché è venuto fuori anche con un altro ospite, Alessandro, che opera nella crescita personale, dove abbiamo detto che il 98-99, saranno 97, non so, per cento delle persone, quando le fermi gli chiedi perché, dove vuoi andare, non lo sanno. Se non hai un perché, chiaramente non hai nemmeno, non sono i soldi. Scopi di vita, le cose. Io quando faccio, io faccio sempre la prova del vino. Sai cos'è la prova del vino? No, no. La prova del vino è questa. Le persone hanno dei freni inibitori che tante volte non ti raccontano la profondità. Ah, ok. Quindi bevono. A me piacciono i rapporti di profondità. Magari con uno freddino. Io sono freddino, sono piccolino, freddi. No, no. Non riesci ad averli. Allora la prova del vino mi aiuta molto. Io non bevo niente dal lunedì al venerdì sera, ma venerdì, sabato, domenica faccio la prova del vino. Quando tu bevi, tu vai in profondità sui rapporti, dici il cerchio degli affetti, come funziona, il tuo stato fisico, il tuo patrimonio personale, la tua azienda, cosa guadagna. C'è tutto. Nel mio piano di vita, nel progetto di vita che faccio durante le mie... Sono dieci elementi, sostanzialmente, e tu vedi che questi dieci elementi poi le persone si mettono a piangere. Perché tu li hai portati a ragionare che magari hanno fatto una vita per fare un'aziendina che è tutta la loro vita perché fuori da quel cancello sono delle merde totali, però gli dici guarda che non è tutto lì il mondo. C'è molto di più. C'è molto di più, voglio dire, ci sono situazioni della tua vita e allora portando queste persone in profondità e invito tutti, quelli che ci stanno ascoltando e vedendo, andate in profondità nei rapporti che scavando troverete persone diverse di quelle che conoscete in superficie e scavando vedete che le persone capiscono che devono tirare fuori il meglio e devono progettare la propria vita, programmare la propria vita, anche gli ostacoli della propria vita per saltarli. Fantastico. Noi usiamo una cosa simile, un tool simile, lo faccio anche con i miei ragazzi, noi siamo circa, qui siamo una 35 oggi, infatti stiamo cercando degli uffici più grandi, come ti dicevo, di circa 560 metri quadrati, stiamo in trattativa con uno, più ne abbiamo altri, in totale sono 60 solo in questa azienda, tra collaboratori esterni e chi full time eccetera. E una cosa che non ho visto mai da fare nessuno e finalmente l'ho trovato, è quello di, noi lo facciamo con ogni singola persona, non solo con i clienti, ma anche con lui che è il videomaker, noi facciamo quelli che chiamiamo gli obiettivi PPF, obiettivi professionali, personali, finanziari, da qui a un anno, tre anni, dieci anni, però partendo dai dieci anni. Perfetto. E da lì creiamo un piano carriera per ognuno di loro così che possano sempre... Perfetto. Perfetto. Primo discorso, fidelizzi le persone, ma tutte le persone hanno bisogno di essere fidelizzate o hanno bisogno di sicurezza o hanno bisogno di vedere loro che ruolo hanno in questo film, in questa situazione, quindi però non lo fanno la stragrande maggioranza. Poi dicono è andato via, sì è andato via perché purtroppo... Il bello è quello che ho visto che dicevi anche tu che io non bevo quindi nemmeno davanti al bicchiere di vino però cerchiamo di farlo magari col bicchiere di vino diventa ancora più efficace. Una cosa bella che vedo in loro è che anche loro non se lo chiedevano prima, la maggior parte di loro quando vengono a parlare con noi non sanno cosa vuole. Quando gli fai queste domande già gli dai direzione e cavolo, non mi è successo da nessuna parte. E lì chiaramente come dici tu li fidelizzi e poi gli dai un mezzo per andare avanti. Ti volevo chiedere oltre a questo parliamo di bilanciamento. Io che mi segui da un po' sa che per me il bilanciamento è una cazzata nel senso che non sono delle gomme di un'auto da bilanciare. Tu cos'è? Come la vedi il bilanciamento della vita? Com'è la tua in particolare? Ma guarda con questo sistema di questi dieci fattori c'ho una parte professionale una parte personale e poi degli obiettivi personali e professionali che si incrociano io li chiamo teatri di guerra sono i miei teatri di guerra sono le cose principali che io devo fare su una giornata. Le cose principali che devo fare su una giornata sono quelle che faccio quando ho la maggior forza psittica quindi le faccio la mattina 3-4 ore la mattina eccetera e quindi so esattamente cosa devo fare per non tralasciare anche la parte privata perché la parte privata è l'anello debole dell'imprenditore è il talone di Achille dell'imprenditore non lavorando sulla parte privata evidentemente tante volte ci si sbilancia si ottengono aziende straordinarie ma persone che sulla vita privata sono in bancarotta fraudolenta e quindi aver guadagnato la copertina di Forbes e dopo essere stato un disastro di padre o di compagno o di marito eccetera beh non è un gran successo sinceramente quindi il mio metodo è quello di progettare programmare le due vite e poi avere un work balance life e all'ossessione direi perché è ossessionandosi di queste cose che si può condurre una vita equilibrata mi piace la parola ossessione c'è anche di là l'ossessione ecco la riguarda l'ossessione non è una malattia è un dono io racconto sempre una storia ai miei clienti soprattutto dove ero ossessivo compulsivo ero uno di quelli che si lavava 17-18 anni mi aveva distrutto la vita poi ho detto perché non prendo questo sono andato dai psichiatri i psicologi mi davano il come si chiama il prozac addirittura a un certo punto ho detto ma vaffanculo questi qui sono anni che avevo qui tra 4 anni da adolescente a un certo punto ho letto su un libro la frase un libro di Tony Robbins su una certa frase dove spostare l'attenzione associa questa roba qui una cosa diversa ho fatto questo piccolo step e ho spostato la mia con una frase di un libro ecco la formazione quanto importa ho spostato questo piccolo step con questo piccolo step la mia ossessione per una cosa sbagliata su le cose giuste quindi vita benessere ho cominciato ad allenarmi di continuo ho cominciato a studiare a fare business tutto qua e alla fine mi ha cambiato la vita e uno deve essere ossessionato perché se non si è ossessionato guarda Cristiano Ronaldo guarda qualsiasi atleta tutti Schumacher prima che ci ho detto quello che è successo insomma tutti i grandi campioni sono stati ossessionati dalla perfezione dall'andare a fare le cose fatte giuste da certa maniera senti ci racconti la tua routine settimanale quotidiana e poi settimanale il mattino mi sveglio 5 e mezza 5 e mezza 5 e 45 hai visto il mio reel l'hai visto il reel che è esploso perché io dico che alle 5 e mezza mi sveglio alle 8 e 20 sono in call mentre gli altri molti pensavano i miei ragazzi gli altri imprenditori sbadigliano e vedi tutte le volte che io intervisto qualcuno tutti alle 5 e mezza si svegliano tutti quanti da sempre quasi praticamente mi sveglio alle 5 e mezza faccio le mie cose colazione l'autista arriva alle 6 un quarto 6 e 10 sostanzialmente la prima cosa che faccio io faccio parte della coroncina della Divina Misericordia noi siamo 1200 pregatori in Italia che preghiamo per persone che hanno malattie gravi che non conosciamo abbiamo il nome e la patologia e quindi 40 minuti sono dedicati alla preghiera e lo fai di gruppo con gli altri? no no da solo noi siamo un gruppo di 1200 ci arrivano le intenzioni di preghiera e poi noi preghiamo 40 minuti poi un'ora e 10 un'ora e 20 lettura giornali leggo giornali di Vicenza Corriere della Sera in sequenza giornali di Vicenza Corriere della Sera sole 24 ore Milano Finanza Italia Oggi Repubblica e La Stampa un'ora e 20 un'ora e 30 più o meno insomma e poi il piano della battaglia della giornata questa routine dura 2 ore 2 ore e mezza quindi alle 5 e mezza alle 7 e mezza sì 8 alle 8 sono alle 8 cominciano le telefonate cominciano le cose comincio prima anche con messaggini e telefonate su altri che so che il mio amministratore legato insomma le persone che devo fare sicuramente inizio prima però la realtà è che la routine mi dà molta anche questa mi dà molta bilanciatura immagino immagino e quindi tu la sera che ora stacchi più o meno dipende stasera sono in serata a Bologna 11-11 e mezza per conto di sera sì ok ma anche se non è serata no sono in serata sto a che vado alle 21 arrivo a casa ok ma è raro che non sia fuori e per 6 miliardi e 5 e mezza a che ora vai a letto 11 e mezza e mezza notte 11 e mezza notte dormi poco io faccio un programma ho un mio preparatore italo-israeliano che sostanzialmente insegna ai soldati a combattere nei kibbutz io sono diabetico e quindi avevo bisogno di un rinforzo di un certo tipo e faccio questo protocollo simil militare praticamente da ormai 8 anni fantastico e invece durante la settimana tu mi dicevi prima di registrare di cominciare questo podcast che parti abiti vicino al terminal 1 durante il fine settimana abito vicino al terminal 2 che hanno riaperto adesso dove c'è EasyJet che ha un'offerta di mete incredibili e quando vogliamo quando non è programmato si parte si va in qualche paese o con EasyJet voli dappertutto e con chi voli con la tua compagnia con la mia compagna EasyJet io voglio solo EasyJet da lì non intendevo la compagna la compagna e viaggiamo dappertutto insomma quindi tu ogni fine settimana quasi prendi e parti non sto mai a casa il fine settimana bellissimo quindi parti il sabato e torni domenica sera venerdì sera e torni domenica lunedì mattina lunedì mattina o domenica sera lunedì mattina molto bello io sono molto più per weekend lunghi questo fine settimana vado in Puglia quindi abbiamo un piccolo resort allo crotondo fine settimana vado in casa a Sardegna e via dicendo insomma quindi c'è tutta quanta una programmazione anche della mia vita privata che anche quello lì trovo molto importante che sia pianificato sono d'accordo bellissimo anche le cene giusto no è bellissimo perché tu mi hai detto sono più per i weekend lunghi no io sono d'accordo perché anch'io quando vado in vacanza dopo 6 o 7 giorni se vado in vacanza faccio due settimane massimo ad agosto perché proprio la seconda e la terza non c'è nessuno quindi sì ma anche anche 10 giorni 7 giorni comunque a me comincia a venire poi ad andare a lavorare dopo un po' adesso con lo smart working possiamo fare quello che vogliamo dappertutto quindi io faccio le call to action da qualsiasi parte sono o le videochiamate eccetera però insomma non sono per la proprio per la chiusura del cioè non riesco a tirar giù completamente non riesco a mettere un confine preciso perché quando anche sono in vacanza trovo gli imprenditori e comincia a partire l'emolo sì infatti anch'io in vacanza mi ricordo l'anno scorso sono andato in Sardegna e ho fatto una vendita ho conosciuto una persona un imprenditore e ho fatto una vendita in Sardegna bellissimo senti ti volevo chiedere un'altra cosa soldi no parliamo di soldi già ne abbiamo parlato però soldi secondo te che rapporto c'è in Italia con i soldi per gli imprenditori lascia stare gli altri però gli imprenditori come vedono i soldi come vivono i soldi secondo te ma gli imprenditori innanzitutto pensano che lo stipendio medio di arrivo come obiettivo dovrebbe essere 100.000 euro l'orde all'anno per loro per se stessi sì poi il tenore di vita anche che è basso secondo me però anche lì bisogna che uno abbia un suo programma di vita per sapere quanto gli serve per la sua vita cioè se io voglio oggetto privato devo sapere quanto mi costa sì ma guarda che il successo Giacomo sta molto più basso cioè la persona dice noi ci facciamo infatuare da questi social che usiamo anche noi ma che ci pensano ci fanno pensare che l'asticella sia molto più alta l'asticella è molto più bassa guarda quando tu hai la possibilità di andare sul ristorante e hai la possibilità di ordinare senza guardare il prezzo prendere la bottiglia che vuoi senza guardare il prezzo e invitare gli amici magari quelli che non possono oppure quando puoi fare un fine settimana e spendere 5.000 euro senza fare una piega eccetera sei a posto poi aggiungi il fatto di avere un cerchio degli affetti qualcuno che ti ama veramente per quello che sei e non per quello che rappresenti e poi tutto il fatto di dire avere un patrimonio una parte di patrimonio da parte che sia una sicurezza basta tu sei un uomo di successo non è che devi non dobbiamo spaccare il mondo a livello di soldi giusto non dobbiamo spaccare il mondo perché troverai sempre qualcuno che ce l'ha più di te che ne ha troverai sempre se tu leghi sta roba qua dici la macchina quando mi vedono con l'autista dico l'autista ma non è un stato simbol io sono operativo io scendo di qua l'autista è un investimento e fermo fuori lì io scendo salgo in macchina invece di averlo stress l'ho preso nel 2005 perché con la serie 7 sono finito sotto un camion proprio e sono scattati gli airbag eccetera eccetera ho detto basta non guido più sono vent'anni che non guido proprio perché ho detto la mia vita vale molto di più l'autista è dipendente vostra giusto sì 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 ma non solo di venerdì anche sabato la domenica perché non voglio proprio guidare non voglio proprio però le persone pensano che sia uno vedano eh invece insomma i soldi quando ne hai quelli che ti servono per il tuo tenore di vita sei un uomo di successo punto bellissimo senti tre cose tre cose per gestire che poi non mi piace mai la parola gestire 500 persone quando hai il cerchio magico che a sua volta crea dei cerchi magici di controllo con il colloquio di manutenzione che è uno strumento di un certo tipo poi organigramma e funzioni e processi gestisci tutto basta non hai bisogno di altro hai usato il termine cerchio cerchio magico cerchio magico sono le persone che aiutano te a tirarti fuori piano piano da quella che è l'operatività che è un esercizio importante perché un imprenditore dovrebbe partire dal 100% poi 95-5 90-10 85-80 a darsi un obiettivo in tre anni non so che poi l'imprenditore se un imprenditore si spacca la gamba cosa succede? niente l'azienda avanti se è un'azienda che è organizzata se tutto ruota intorno a lui invece l'azienda è il colloquio e vale anche meno l'azienda esattamente ok senti ti volevo chiedere l'ultima cosa prima di chiudere ti volevo chiedere cos'è per te l'1% e far parte dell'1% che è il nostro brand o brand l'elite è il sostanzialmente il mirare ad essere unici il mirare ad essere far parte di un qualcosa che io dico sempre quando tu hai il piano industriale fai parte dell'1% ma è la realtà voglio dire perché quella esclusività vuol dire che tu hai fatto qualcosa di più degli altri vuol dire che hai fatto un passo di più degli altri vuol dire che ti sei impegnato più degli altri vuol dire che hai fatto qualcosa di diverso dagli altri dalla massa e questo merita di essere premiato assolutamente penso che sia un buon obiettivo assolutamente una delle migliori definizioni che ci hanno dato secondo me nel podcast grazie mille ti chiedo un'altra cosa prima di chiudere mentre parlavi quali beni di lusso hai? non ho non ho nessun non ho nessuna di queste cose assolutamente viaggio in easy jet come ti ho detto prima sono una persona molto semplice dalle cose molto semplici mi piace mangiare bene eccetera ma poi mi piace anche insegnare questo perché su imprenditore è vero che è uno dei due percorsi miei trovo che gli imprenditori non hanno chiaro il loro quello che dovrebbe essere il loro obiettivo di tenore di vita ma il tenore di vita non è per far contento agli altri certo non è per far vedere agli altri è per far contento te stesso è egoistica la questione e vedo che anche questo salto di paradigma non è poi così scontato in Osa lo condividiamo già di più insomma in Osa ci sono molti imprenditori che vengono a serate stasera siamo in Cento a Bologna ad esempio imprenditore è vero invece lavoro con meno imprenditori in maniera più verticale eccetera però anche qua dico roba di lusso ti serve? se ti serve sì se a te piacere a Lamborghini è un obiettivo comprati un Lamborghini l'hai scritto nel piano io ho comprato io avevo la Porsche Carrera 4S l'ho data via subito che mi sembrava era il culo per terra poi mi hanno dato no poi nel 2009 questo Carnevale e Magni mi ha venduto una Bentley GT Continental mi piaceva subito poi tutta sta bagare intorno eccetera l'ho venduta cosa intendi per bagare intorno? la gente la gente è lì e allora io ho venduto ho preso una Panda 4x4 quando vado a St. Moritz non mi caga nessuno passo la frontiera sono tranquillo passi anche per i boschi ma dove vuoi insomma quindi non però insomma guarda il tuo tenore di vita che vuoi avere quello è quello giusto quello che non fatti infattuare dagli altri quello che è giusto per te ma il successo è personale senti Mirko un consiglio per chi vuole creare un'azienda da zero mettiamo che è da zero 100.000 ancora un freelance oppure un professionista che uno come vuoi lavora da solo vuole creare un'azienda che consiglio gli dai allora dopo è scontato che abbia l'idea di business del modello di business del business quella ce l'ha quello che gli manca è un buon business plan fatto da una terza parte business plan fatto da professionisti terzi i quali obiettivamente gli dicano quali sono i punti deboli perché gli start-upisti oggi le start-up in generale sono veramente una roba tutto è unicorno sulla carta ma poi la realtà è che ne arrivano poche perché prima di generare cassa ne assorbono in maniera incredibile quindi prima business plan dopo aver fatto l'idea poi i soldi non c'è mai stato un momento come oggi che i soldi possono arrivare senza problemi sono d'accordo e secondo te quanto è importante scegliere il settore giusto dove fare business? beh lì sicuramente lì c'è da guardarci sicuramente lì tutto il mondo del green delle nuove tecnologie io ho appena chiuso adesso un contratto con un grosso gruppo indiano il gruppo Mahindra fa 20 miliardi di dollari con 250 mila dipendenti e ci ha dato l'esclusiva per i generatori di corrente gasolio da 10 a 100 per 28 paesi europei wow quindi è un bel è un bel questo insomma inciderà molto sul nostro futuro del nostro gruppo e quindi ovvio che lì vai verso il green vai verso le situazioni dove elettricità problematiche eccetera eccetera quindi guardare bene il campo leggere questi giornali perché Sole 24 Ore e Milano Finanza e Italia Oggi che sono tre giornali non sono per addetti i lavori sono per tutti leggeteli sono anche i libri che insegnano come leggere i giornali ma puntate a dei settori che siano in espansione voglio dire vedi lo storico del settore come sta andando e vai su quel settore cerca di fare o servizi che oggi non ci sono ma veramente che non ci sono voglio dire perché oggi il digital ha sconvolto un po' tutto come usi tu i digital come i social io ho il mio team capitanato da Riccardo che tu hai conosciuto e conosci devo dire che anche quello è un lavoro perché uno quando mi dice ma si faccio 4 ads è un lavoro oppure vado a fare i contenuti organici che sono gratuiti noi abbiamo 5 persone stipendiate più tutti i shot out che paghiamo no è un lavoro io con la saldatura ad esempio 7 anni fa sono partito che non è la formazione con la saldatura sono partito 7 anni fa hanno cominciato a produrre dei contenuti i tecnici hanno cominciato a capire che la saldatura è verticale quindi produci contenuti anche per la saldatura questo non è un lavoro madonna facciamo 500 clienti nuovi mesi 7 anni fa siamo partiti noi cioè per me il digitale della saldatura se tu guardi Harwell d'Italia vedi veramente molta roba ma perché siamo partiti 7 anni fa abbiamo creato un team trasversale un CIS digital officer e quindi abbiamo fatto una serie di cose e oggi funziona ma funziona molto cioè noi facciamo una fiera e dopo un'ora a un'ora dalla chiusura di fiera clienti di visitatori profilati già spammati spammati su tutti quanti i nostri commerciali bellissimo quanti commerciali avete? sono curioso 160 160 più 80 tecnici che sono comunque commerciali che vuoi raggiungere da qui a 12 mesi ne abbiamo una cinquantina ma sicuramente perché sei brillante e perché sicuramente come ti ho detto all'inizio fuori onda meriti e insomma stai facendo un bel lavoro dal punto di vista commerciale marketing molto molto importante sicuramente le persone brillanti però portati il bigliettino di vista guarda ho detto al mio team eccolo qua guarda arriva Mirko la volta mi ha cazziato è quello il bigliettino lo vedete qui la volta mi ha cazziato ho detto fatemi un bigliettino stampatemelo per lunedì perché non ho niente da dare e non sono riuscito a farlo comunque grazie mille per il bigliettino ve lo tengo ti mando anche ti vuoto questo è il tuo messaggio privato ti vuoto ogni tanto facciamo mi porti a cena col miliardario di Bidda va bene mi basta che con te è già tanto però guarda che anche andare a cena con uno che fattura tanto se non c'è l'arte della maieutica o se non crei perché i giovani imprenditori dicono no no ma dai coinvolgimi eccetera ma non è così automatico le relazioni non sono automatici non puoi andare a vivere se quando lì dici ma scordi dimmi scusa mangia che mangiamo io non sono propensi a raccontare se invece c'è il contesto e il contesto lo trovi su posti Porto Cervos Moritz insomma situazioni di un certo tipo allora lì pian pianino viene fuori viene fuori la picca viene fuori l'insegnamento sono d'accordo sono d'accordo fantastico Mirko è stato un super episodio grazie Giacomo ovviamente condividete Mirko questo ovviamente lo troverete dappertutto online nelle varie piattaforme commentate qui sotto mettete mi piace quello che è la valutazione e condividetelo perché questo è un super episodio non vedo l'ora di rivedermelo più volte perché ha detto tante cose interessanti e sicuramente quando avremo i nuovi uffici ti faremo un altro episodio volentieri possiamo andare in verticale in tantissimi aspetti volentieri grazie mille Mirko ci vediamo nel prossimo episodio grazie grazie a tutti i nostri spettatori